Ciao ragazzi, ciao da Nick e bentornati qua su HerArgency 5 Oh, guardate quante pannelli solari che ci stanno Allora, vediamo un po' se ci dà qualche compito quest'oggi da svolgere Vediamo un po' Dinami tardi? Attenzione Abbiamo ricevuto segnalazione di una bomba a orologeria Il colpevole è armato e pericoloso Disinnesca la bomba e arresta l'attentatore Se la bomba dovesse esplodere dovrai occuparti delle conseguenze Sì signore Sì signore Ci siamo Dov'è l'altro poliziotto? Oh, due pattuglie ho mandato Dov'è l'altra? No cacchio è l'altra pattuglia della polizia Eccola là Oh, il ritardo In attesa di ordini Sì signore Sì A disposizione Ci penso io Ok dai andiamo a disinnesca sta bomba Ok dai Cosa c'è Presente In attesa di ordini Presente Sì No problem A disposizione In attesa di ordini Ok In attesa di ordini Sì L'autore che l'autolizia sta portando il prigioniero Presente Aspetta Dov'è? A disposizione Subito Sì Ok Certo Cosa c'è? Ok ora può andare Consideralo fatto Puoi tornare dentro A posto Questo primo problema ragazzi l'abbiamo risolto Capito Ecco fatto Problema risalto Si è verificato un grave problema tecnico con una cassetta di derivazione Sei Chiunque le si avvicini rischia di restare folgorato Sei Ripara la cassetta di derivazione il prima possibile Va bene capo E occupati degli eventuali feriti Allora poi dobbiamo comprare questi mezzi ragazzi Fulgono della polizia Elicottro della polizia Elicottro SWAT Insomma tutta una questione di polizia prossima missione Va Ecco che arriva Il mezzo Perfetto Non c'è nessuno Ok Attenzione Per cause ignote Una nave è andata a fuoco Ah Diversi membri dell'equipaggio si sono salvati dalle fiamme saltando in acqua Ma sono ora a rischio di annegamento Ok Estingui tutti gli incendi E salva l'equipaggio Va bene capo Allora lancia antincendio Dobbiamo mandare anche Un veicolo a trasporto lancia un motore Ok ragazzi ho scelto questo punto perché non ne trovo altri Ok Quindi mando due automediche Capito E due ambulanze per sicurezza Ok Va bene Qui la situazione dovrebbe essere quasi pronta Sistemata Ok ci siamo quasi Stanno sistemando Intanto là arriva una lancia Cos'è qua Ah ora me li insegna Prima li cercavo non li trovavo Aspetta 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 Si Ok Va bene non importa Ah dunque Dov'è il tizio Allora tu torna dentro Ok Puoi tornare alla base Vai 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 Allora sta per arrivare la barca ragazzi La nave antincendio Così che possiamo spegnere finalmente le fiamme Dov'è la barca in fiamme? E qua Dai Attenzione Un ubriaco sta disturbando la quiete pubblica E aggredisce i passanti Arrestalo E occupati delle vittime Ok Sì signore Certo Allora nave in fiamme Spegni 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 Questo dogacchio va Oh Cosa c'è Ma dove va? Ok oramai vai qua va Ormai che ci siamo vai là Allora Qui la situazione con la polizia Intanto qua stiamo spegnendo l'incendio Però Allora Eccola il criminale Perfetto Dove cavolo è la polizia? Dai Porca miseria Dove è la polizia? Tre ore Tre ore Pa' arrivare Ma dove sta? Mannaggia Se mi fan cavolà E' chiaro che mo Questi li devo mandare dall'altra parte Presente Dove è la polizia? Io l'ho mandata Eccola qua Cosa c'è? Cosa c'è? Subito Sì Presente Mannaggia Pezzo di futuso Pezzo di futuso Sì Ok Fermate quel futuso A disposizione Sì signore Vado Vai Vai Capito Sì Ok Cosa c'è? Capito A disposizione E dai Sbirdo Scemo Cosa c'è? Tre ore Hai manette Manette Capito Mettetegli manette Stufutuso Ok Mettiamo in pausa Perché qua Fa restare un tizio Uno diventa esaurito Eccola qua La lancia Presente Ok Allora capiamoci Perché qua Non se ne è capito niente Cosa c'è? Ci dovrebbe essere un tizio qua Ferito Mandiamo l'ambulanza No problem A disposizione Sì signore Cosa c'è? Sì signore Dai 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 Dobbiamo curare sto tizio qua Sì signore Oh Cosa c'è? Cosa c'è? Mannaggia ma questi ordini non li capiscono proprio Sì Sì signore Ok Ma che è? L'auto della polizia sta portando il prigioniero in cella alla base Ci penso io Ok finalmente Carica stanto Ci penso io In attesa di ordini certo In attesa di ordini Allora vai a scaricare Dov'è? Sì signore Ci penso io Ok abbiamo un'ambulanza nel caso serve Cosa c'è? Subito E cosa c'è? Cosa c'è? Sì Capito E meno male che l'hai capito Ma dove sta l'ambulanza? Tre ore che eccola là Sì? Sì? Ok Ok Certo Ok Com'è qua la situazione? Sta arrivando? Dov'è? La barca è qua Ok Oh mamma mia Allora state pigliando a quello? Mi servirebbe un'altra ambulanza ma sono tutto occupato E mo' vediamo se qui servo oppure no Perché si è fermata? Vai Subito Oh ok In attesa di ordini Sì signore Cosa c'è? Vai qua Ci penso io A disposizione Sta portando il ferito in ospedale alla base Cosa c'è? Vai cura questo Consideralo fatto Cosa c'è? Scendi Scendi Va bene Vai qua Tu Sì Vai qua Qui com'è la situazione? Ok Sì Ok Tu torna alla base Sì signore A posto Tu A disposizione Torna su Presente Sì Ok Questa la portiamo via È arrivata l'ambulanza No È il coso Eccolo là Ok Ecco l'altro In attesa di ordini L'altro medico Certo Vai cura questo Presente Allora mi serve un'altra ambulanza qua Vediamo se è libera Ancora no Quasi 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 Ci siamo quasi Eccola Mandiamola Perfetto Quindi tu Carica questo Sì signore Tu torna alla base Ci penso io Tu vai via Capito Tu vai qua A disposizione Base Ok Carica questo L'ambulanza sta portando il tenito in ospedale alla base Vai qua Certo A disposizione In attesa di ordine Subito A disposizione Ok raga Va bene L'ambulanza Eccola qua Scendi Carica questo Sì L'ho fatto E portiamocelo via Dai L'ambulanza sta portando il ferito in ospedale alla base Va bene Ok raga Perfetto Dopo tre ore Ci siamo capiti L'ambulanza sta portando il ferito in ospedale alla base Oh ce l'abbiamo finalmente fatta tre ore devo dire per far capire a sti operai qua come lavorare Ci siamo Ci dovremmo quasi essere le ultime due ambulanze stanno arrivando Una E due SOS Una persona è ammalata e ha bisogno di cure mediche Scopri in che stato si trova e medicala Se necessario trasportala lontano dalla scena Ok Possiamo comprare qualcosa A posto Ok io ho mandato quindi qualcuno Dai 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 Che questo c'è verrà qualche malattia contagiosa Sì Certo Ma è pure a questo veloce Sì signore Veloce 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 Prima che Prima che qua mi contagia mezzo paese Perfetto E ovviamente c'era la via aria Che poteva avere Incidente automobilistico Tamponamento a catena Salva i conducenti dei veicoli distrutti Occupati dei feriti E sgombra il luogo dell'incidente Ok Ricorda di tenere d'occhio il tuo elenco attività Per sapere cosa fare Va bene Capito Ci penso io Subito Certo Ok Torna qua Veloce Cosa c'è Vai qua No problem Ok dai Sono arrivati tutti Forza Scendete Prendete le pinze Sì signore Cosa c'è Cogliti Togliti Via delle pinze Via delle pinze Sì Apri Apri Scendi Cosa c'è Vedete Ok Va bene Torna dentro Sì signore A disposizione Sì Ok Perfetto Ci siamo Bene 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 Sì Ok Sì Vai Cosa c'è Vai Ok Cura 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 Ok Sì Vai via Vai via Va medicata E portata all'ospedale Certo Sì Ci penso io Sì Subito A posto A posto A posto Una persona è svenuta Va portata all'ospedale Ok Dov'è No problem Ok Ci siamo Forza Ce la famo Guardate In tempi Da niente Nicchè Sistema Un incidente Stradale Cosa c'è Via 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 Sì Sì signore Vai Sì Vai Ok In attesa di ordine Vai Sì signore Sì Sì signore A posto Va bene Sì In attesa di ordine Consigliano l'ho fatto A posto Sì signore L'ospedale Alla base Certo Ok raga Che ci vuole Super Nick Quasi quasi Vi posso reputare Anche qua Attenzione Abbiamo ricevuto Segnalazione Di una bomba A orologeria Il colpevole È armato È pericoloso Disinnesca la bomba E arresta l'attentatore Se la bomba Dovesse esplodere Dovrei occuparti Delle conseguenze Allora ragazzi In realtà Mi voglio fermare Con il video Quindi non me ne occupo In attesa di ordine Ci occupiamo di quest'ultimo Consideralo fatto Ok Capito In attesa di ordine Ci penso io Ok A disposizione Consideralo fatto Subito Ok ragazzi Dai Perfetto ragazzi Quindi mi devo fermare Per il momento qua Continueremo nel prossimo Gameplay Con Quello che entra di retromarcia Ovviamente SOS Edificio in fiamme Per cause ignote Alcune persone Sono ancora Intrappolate All'interno Va bene Va bene Quindi ragazzi Mi raccomando Se necessario Inizia Ma sempre che palle E rivolghi I coli distrutti Va bene Ok ragazzi Quindi come vi dicevo Mi raccomando ragazzi Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione Inzucci Perché A presto In un prossimo video Ciao Alla prossima raga Ciao